Informazioni e video recensione delle matite Carioca nella versione black e in quella tita tipicamente scolastiche. La prova delle matite nei vari gradi di durezza, quanto costano, confronto con modelli di altre marche. Carioca nasce dall'eredità e come marchio di Universal S.P.A. Oggi l'azienda ha 110 dipendenti tra la sede italiana di Settimo Torinese e quella spagnola della consociata con sede a Barcellona. Inizialmente specializzata nei pennarelli, oggi propone un ampio ventaglio di articoli di cancelleria, molti dei quali dedicati ai più giovani. Attualmente il 70% dei prodotti è orgogliosamente made in Italy, ma non è il caso purtroppo delle matite presentate in questo video. Abbiamo innanzitutto la linea definita black, di qualità un po' più elevata rispetto alle tita sempre della Carioca, questi qui sono le tita. Questa linea è dedicata alla scrittura e limitatamente anche al disegno tecnico o artistico. È disponibile infatti nelle 5 gradazioni centrali nella scala di durezza della mina. B2 che è quella più morbida e scura, B, HB è probabilmente la più versatile, poi c'è la H e la 2H che è la più dura e chiara. Adesso facciamo un po' di pulizia e vi mostro un foglio con le prove di scrittura. Ecco qui ho predisposto della carta Rodia, ma con le matite non c'è problema perché sono molto versatile e scrivono praticamente su tutte le carte e anche diverse altre superfici. Allora matite Carioca, come vedete Carioca Black in questo caso. Si parte dalla 2H che è quella più chiara, andando dalla 2H fino alla 2B che è quella con il tratto più scuro e maggiormente contrastato. Qui poi vabbè qui sotto la Carioca T HB anche per far vedere un po' come si comporta rispetto alle altre matite. Il fusto è triangolare, qui magari si riesce a vedere meglio da questo lato, forse qui. Comunque sia ha una presa che per alcuni risulta maggiormente comportevole, evita come le matite queste esagonali, di andare a creare un callo qui sul dito dove è il dito di appoggio o perlomeno limita questo fenomeno con cui il fusto triangolare ha rotondato. La mina è dichiarata come resistente alle cadute, sono facili da temperare e magari mettiamo subito alla prova questa affermazione. Vediamo un po' come funziona con un temperino, questo è un temperino apsara a punta lunga, magari andiamo a temperarne una di quella che arriva già pre-temperata dall'azienda, dal produttore. Vediamo un po' come si va a tagliare, non dovrebbe essere del legno di cedro, però comunque devo dire che si temperano abbastanza bene, quindi suppongo che sia tiglio, guardate che bel riccelo che va a fare, rimane tutto intero e la punta rimane davvero affilata, è piuttosto lunga, una gran bella punta indubbiamente, molto 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 bella rispetto a quella base, questa è quella base che offre l'azienda e questa invece è la punta lunga fatta con il temperino. Proviamo anche a cancellare a questo punto, vediamo un po' come si cancellano, prendiamo una comunissima gomma scolastica anche abbastanza economica, questa è della Doms, queste matite non sono dotate di gomma, quindi è necessario in questo caso utilizzare una gomma a blocco viene detta, quindi una gomma separata, devo dire che si cancellano abbastanza bene, poi su questa carta comunque le prestazioni, per quanto riguarda la cancellazione possono dipendere anche dalla carta utilizzata, però devo dire che in questo caso il risultato è davvero buono. Sono made in China? Sì, ma ad appassionato di matite ho rilevato che diversi marchi si rivolgono all'azienda cinesi per realizzare i propri prodotti, magari non tutte le produzioni cinesi saranno baide, però posso tranquillamente affermare che in Cina le matite le sanno fare. Ebbene, queste carioca black, sono queste qui con la parte finale colorata per indicare la gradazione, questi colori più caldi, il rosso, l'arancione, sono nell'ambito delle B, due B e B, questi colori più freddi, l'azzurro e il verde, sono invece colori duri, quindi 2H e H e questo, il blu e la via di mezzo, sarebbe l'HB. Sono abbastanza buone strutturalmente e scrivono bene. Io l'ho trovata sempre con la mina abbastanza centrata, tranne in alcuni casi, comunque si tratta di leggerissime variazioni, però devo dire che strutturalmente sono fatte bene, si temperano bene e come ho detto scrivono bene. Poi hanno sicuramente un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Ma quanto scrivono bene? Facciamo un po' un confronto anche con altre matite per capire come le classifico, come le posiziono. Andiamo a togliere questo blocco qui. Ecco, io non prendo ovviamente in esame le regine delle matite, queste tipo Blackwing o le giapponesi della Mitsubishi, Tombow, Kitaboshi. Sono matite che hanno un costo decisamente superiore e fare un confronto sarebbe impari. Però parlando di matite scolastiche, forse è il caso di prendere in esame queste qui della Stedler. Allora, questa è la classica Norris 120 con normalissimo fusto in legno, non sono le scull, quelle sono diciamo una linea un po' diversa e con prestazione inferiore. E questa qua è la Tradition. Ebbene, la Tradition effettivamente a parità di gradazione, quindi ho fatto il confronto con le HB, la Tradition scrive un pochettino meglio. La Norris anche scrive meglio, però la differenza devo dire che non è poi così elevata come ci si aspetterebbe, perché poi alla fine queste vengono 50-70 centesimi, queste vengono circa 30 centesimi l'una. La differenza di costo, sì, vabbè, vengono il doppio. Però le prestazioni sono solo un pochino migliori. Questo è il legno di cetro, maggiormente pregiato, va bene. Queste qui invece sono, già andiamo sulle matite più economiche, questa qua, spostiamo tutto, è la Amazon Basics. Amazon Basics ha un costo abbastanza irrisorio, se le si prende in offerta ovviamente sulla piattaforma Amazon, sempre a parità di HB, però la Carioca, devo dire che scrive meglio rispetto alle Amazon Basics. E la stessa cosa è per le Tiger, questa è una matita, c'è qui semplicemente scritta HB, in alcune c'è il simbolo della Tiger, queste vengono pochissimo, vengono molto meno rispetto alle Carioca, però la differenza insomma si vede. Ora, intendiamoci, anche queste scrivono bene e sono pienamente utilizzabili, però la Carioca ha quel, un po' di scorrevolezza in più, gratta di meno, c'è meno feedback, è leggermente più scura. Devo dire che funziona meglio in generale, anche se queste rimangono comunque delle matite valide. Quelle che invece proprio non consiglio, l'ho già mostrato in un altro video, in caso andatevelo a vedere su questo stesso canale, sono le matite, queste Evolution della Bic, queste sono veramente, ma veramente tremende. Poi non sono neanche tante economiche, però non le consiglio davvero a nessuno, sono dei disastri di matite per come sono concepite, realizzate e scrivono malissimo. Adesso andiamo a parlare di prezzi. Ecco, questa è la tipica confezione Carioca, sono da 12 pezzi, è disponibile come ho già fatto vedere nell'immagine iniziale in varie gradazioni, sono 12 per ogni confezione con varie decidure in diverse lingue. Queste nello shop online ufficiale della Carioca vengono a 3,50€, ma spesso le si trova a prezzi più bassi a seguito di offerte, maggiormente in alcuni negozi fisici. Ad esempio, un paio di mesi fa le ho viste a circa 2€ in un punto vendita della Risparmio Casa. Il costo invece tra 1,50€ e 2,50€ per i set con più matite o matite gomme, ad esempio questi qua. Qui ci sono 4 matite HB e una gomma per cancellare. Qui invece abbiamo la serie completa e se si va a spendere magari 1,50€ per chi vuole semplicemente provarle per vedere quale magari è più adatta alle sue esigenze, questa confezione potrebbe essere interessante. Parliamo ora in generale così velocemente delle tita. Le tita sono disponibili anche questa in confezione da 12. Questa è la confezione da 12. Questo è un set che contiene 3 matite HB, 2 gomme, ecco qui vedete 2 gomme, un temperamatite con serbatoio. Questa è la matita. Sono maggiormente a vocazione scolastica. Hanno una mina più larga, più grande, come se dovesse essere effettivamente più resistente. C'è lo spazio per scrivere il nome del bambino, utile per chi le perde sempre, per chi le scambia. Qui magari con un penarello indelebile, con punta molto sottile, si può andare a mettere il nome del bambino che le possiede. Queste sono esagonali, qui non si vede meglio da questo lato. La mina è ben centrata. Sono disponibili solo nella gradazione HB, che poi è quella maggiormente utilizzata nelle scuole, e vengono nel shop ufficiale 2,70€, oppure 3,10€, sempre la confezione da 12, questa è la confezione da 12 matite, con la gomma. Ci sono questi qui anche nella versione che montano la parte finale, la gomma per cancellare. Poi ci sono questi 7, mi pare di averlo pagato 2€, 2,50€ in base ai negozi. Questo, come ho detto, contiene sia le matite che altri accessori. Allora, in generale, io credo che queste siano delle buone matite. Marco italiano, anche se è produzione cinese, sia per le black che per quanto riguarda le tita, si comportano bene, funzionano bene, questa è la cosa importante. Per quello che costano offrono un ottimo rapporto tra qualità e prezzo, perché davvero le si va a pagare circa 30 centesimi in una, anche abbastanza meno se si trova qualche offerta interessante. Io credo che siano dei prodotti da tenere in considerazione, soprattutto per l'ambito scolastico, ma perché no? Come ho già detto, sono adatte anche agli adulti, anche per altri impieghi, non hanno una gradazione enorme di durezze, quindi non è che arrivano fino a 8b o a 8h, assolutamente. Sono le 5 centrali, quindi vanno a coprire un po' le esigenze più comuni delle persone. Io spero che con questo video abbia fatto una cosa gradita, una cosa che possibilmente possa risultare utile, almeno me lo auguro. Vi ricordo che se volete potete mettere un mi piace al video, a voi non costa nulla, a me fa molto piacere, e magari anche iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle prossime uscite. Un grande saluto a tutti voi, ciao!